Bene, intanto buona giornata a tutti, ho preso alcuni appunti perché insomma restringere tutta la storia e le idee in un breve tempo non è facile. Allora intanto io vorrei iniziare presentandomi perché inizia questo questo giro di incontri su tutti i territori e credo che sia importante appunto far sì che chi deve andare a scegliere tra i due candidati abbia la possibilità appunto di conoscerci. Allora voglio raccontare un po' la mia storia, la storia che mi ha portato poi oggi a essere qui candidata per la segreteria provinciale del Partito Democratico di Modena. La mia storia ha un inizio, sono già un po' non dico vecchie però sono un po' di anni, ha inizio nel 94 quando laureata da poco tempo in architettura vengo così interessata nel mio comune che è Maranello dove sono nata, dove ho sempre vissuto e vengo chiamata a fare l'assessore ai lavori pubblici e territorio. Voglio ricordare la stagione nel 94, andiamo un po' indietro ma voi avete tutti più buona memoria di me, è il momento in cui si cominciava a pensare che le competenze tecniche nell'amministrare avessero un importante significato quindi iniziarono quelle figure in quegli anni degli assessori esterni. Io fino ad allora non avevo avuto particolari esperienze legate alla politica ma soltanto legate al mondo dell'associazionismo culturale, facevo parte di associazioni maranellese per creare iniziative legate al cinema piuttosto che. Nel 94 quindi diventando assessore esterno svolgo un'esperienza che mi ha sicuramente cambiato fino al 99 come appunto assessore poi anche vice sindaco nella giunta di Maranello e questo mi ha portato poi dopo a mantenere il mio impegno anche successivamente con una storia un po' strana nel senso che ho quasi fatto un passo indietro nel senso che dal 99 invece al 2004 prima di diventare sindaco e sono stati in consiglio comunale nel consiglio comunale invece ho un po' appunto cominciato a ad appassionarmi più ai temi appunto legati alla politica meno tecnici alle visioni a quello che è un po un po l'esperienza che uno può mettere in campo nel frattempo continuato anche a lavorare a fare il mio mestiere legato alla professione di architetto di urbanista poi nel nel 2004 quindi per la prima volta sono entrata a far parte di una compagine di partito con una tessera mi sono iscritta ai democratici di sinistra nel 2001 insomma in un periodo dove durante appunto il lavoro in consiglio comunale ho cominciato ad avvicinarmi sempre di più alla politica e poi provo a dopo a spiegare anche i legami che insomma che secondo me sono tra politica amministrazione e governo e azione sul territorio sulle sulle problemi delle persone nel 2004 sono state letta sindaco di maranello di cui ancora per un po ho questa ho questo compito da svolgere questo importante ruolo che credo insomma sia un'esperienza bellissima e che appunto ti fa entrare proprio a contatto con le persone con le problematiche con la gente ti fa capire che bisogna trovare dei luoghi dove dare delle risposte e lo voglio sottolineare perché alla fine l'esperienza da sindaco l'esperienza amministrativa fa capire come i partiti che ci sono dietro che sono appunto delle associazioni che vogliono in qualche modo che si che si candidano a organizzare a governare a promuovere il governo dell'italia del territorio della federazione chiaramente ai vari livelli i partiti che che ci sono dietro appunto danno delle regole che poi dopo l'amministrazione deve mettere in campo e i cittadini le persone si aspettano delle risposte io credo che questo sia il nodo un po più duro adesso che sta vivendo il partito democratico nel senso che il partito democratico è appunto nato come ricordava prima paolo negro nel 2007 da questa esperienza che abbiamo costruito diffusione io ero nella fase costituente del partito democratico in quel periodo ero sindaco e ho anche vissuto l'esperienza di far parte della prima segreteria regionale del partito democratico allora segretario regionale salvatore caronna e dove sono stati fatti sforzi per appunto cominciare a amalgamare un po spiriti no per costruire un percorso comune stati fatti dei documenti che hanno portato appunto a a mettere un po in fila quello che era il partito democratico nella nostra regione come si poteva prefigurare e poi dopo sempre per stare sull'esperienza recentemente io faccio parte anche dell'assemblea nazionale del partito democratico e questa purtroppo la devo mettere in luce come anche un po una nota dolente nel senso che l'ultima assemblea a roma non è stata molto bella credo che tutti l'abbiate letta sui giornali dove alla fine siamo stati messi di fronte a una situazione in cui appunto le classi dirigenti non sono riuscite a fare sintesi non ci hanno fatto votare il documento noi adesso siamo dentro a una fase congressuale così stretta stringata che ha sostanzialmente tra l'altro questo problema della convenzione precedente alle primarie nazionali perché non si è riusciti a trovare un accordo allora credo che questa sia la cosa peggiore che un partito può fare cioè rimanere fermo nelle divisioni cioè non riuscire a trovare le strade per dare le risposte perché è questo che i cittadini si aspettano da noi i nostri iscritti anche perché quando ci troviamo effettivamente di fronte a queste situazioni il tema chiaramente ci mette in imbarazzo quindi questo è un po il mio percorso diciamo ho voluto un po fare una piccola storia che mi ha visto appunto dal nel 2000 sostanzialmente poi con l'esperienza da sindaco allontanarmi un po sempre di più dalla mia professione e appassionarmi sempre di più a quella che era la vita amministrativa in primis e chiaramente non slegata da quella che è l'attività politica ecco quindi e da questo punto di vista voglio anche sottolineare questo cioè l'amministratore che è un po il delegato della politica a governare il territorio ha bisogno della politica e degli indirizzi ha bisogno che qualcuno promuova che ci sia un luogo non qualcuno un luogo dove può muovere la sintesi la sintesi tra i vari territori la sintesi tra le varie componenti anche della società quindi c'è bisogno di un lavoro di un partito che è che è quello che io ho un po in mente che adesso proverò a spiegare soprattutto in quella che è la logica territoriale cioè l'elemento territoriale intermedio che è quello provinciale cioè noi stiamo ragionando di una candidatura al consiglio alla segreteria provinciale allora non dobbiamo confondere credo nel ragionamento quello che è la la segreteria nazionale che chiaramente ha altri compiti ha compiti più alti di definizione di logiche di partito ha compiti più importanti noi abbiamo a livello locale il compito di essere un po quella quell'anello di connessione tra i cittadini e invece la fase nazionale cioè noi dobbiamo essere i portatori delle voci dei cittadini dobbiamo ascoltare dobbiamo essere in grado di condividere dal basso dai territori delle istanze e dobbiamo in qualche modo essere in grado di portarle verso l'alto unificandole non spezzando noi non possiamo essere a livello provinciale è quella il luogo dove le frammentazioni vengono riverberati nelle classi dirigenti le classi dirigenti hanno l'obbligo invece di fare sintesi è uno sforzo enorme su questo non c'è assolutamente dubbio quindi la sintesi deve essere l'elemento che in qualche modo ci porta a essere operativi a dare le risposte perché nell'immobilismo non riusciamo a risolvere nulla allora io per per questo lo dico proprio da questo punto di vista ho deciso di candidarmi per mettere in campo un'esperienza l'esperienza amministrativa un'esperienza di di passione io quando faccio una cosa la faccio al cento per cento non non mi tiro indietro cioè la faccio con la convinzione che che sia il modo che il modo totalitario sia quello di farla questo per certi versi può essere anche negativo nel senso che è negativo dal punto di vista fisico delle volte però credo che questo sia invece lo spirito cioè io ho detto una cosa l'altro giorno cioè noi io ma tutti voi credo non siamo obbligati a fare politica è una scelta libera quella che facciamo però se la facciamo credo che siamo obbligati a farla in modo serio e di impegno e di appunto relazione di fiducia con chi ci delega soprattutto per quanto riguarda le funzioni gli organi dirigenti con chi ci delega a fare a svolgere quei ruoli quindi questo è l'impegno che credo si debba mettere nella politica e io da questo da questa esperienza amministrativa appunto tratto un'idea un modello una un'esperienza che credo possa servire anche appunto quello che dicevo prima essere questa fase provinciale questa questa logica provinciale del partito democratico c'è la necessità e ho usato tre parole che ve le dico poi chiaramente avete il programma dove potrete potrete leggere meglio la necessità di trovare appunto queste energie dai territori facendo appunto questo sforzo per cercare la visione comune per cercare ma la visione comune nella nella logica di risolvere i problemi dei cittadini il partito ha questo obbligo questo impegno non lo non lo può solo delegare agli amministratori la responsabilità in questo senso è comune perché il partito ha come dicevo prima in fondo delega gli amministratori poi ci sono le modalità della delega no primarie le scelte dei candidati ma il partito è il centro di questa risposta che la comunità ci chiede questa è la responsabilità che dobbiamo mettere nel fare politica credo allora partendo appunto con questa costruzione delle energie dai territori dal basso che lasciatemelo dire a volte sono anche più avanti di noi a comporre delle diversità perché sono sul territorio i cittadini perché hanno bisogno di risposte e quindi forse ancor prima che i livelli dirigenziali alti dal basso si comincia già intravedere questa logica di un partito democratico nuovo e da questo punto di vista quindi l'impegno nostro deve essere quello di andare dal basso verso l'alto a comporre non dal dal dall'alto verso il basso a disgregare questo è credo un elemento importante le parole che ho scelto perché non voglio poi di lungo chiedo a paolo poi quando siamo perché purtroppo poi mi appassiona comincia a parlare e mi devono fermare allora chiedo a paolo le parole che abbiamo scelto sono queste sostanzialmente perché ho scelto per questa per provare a comunicare questa modalità con cui io interpreto l'azione del partito provinciale la condivisione la vicinanza e il cambiamento questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare provo a delinearle brevemente proprio perché non voglio assolutamente rubare tempo alla discussione successiva allora la condivisione appunto significa come la vedo io l'ascolto perché tutto deve partire dall'ascolto dal percepire dal capire quali sono le tematiche in essere che si devono comporre da dove da dove nascono gli elementi di conoscenza quindi l'ascolto l'ascolto però non è sterile l'ascolto è condivisione cioè deve diventare condivisione cioè deve diventare il luogo nell'ascolto per fare quella sintesi di cui parlavo prima fare la sintesi e quindi darci la possibilità di essere poi propositivi perché se noi non facciamo mai la sintesi non facciamo mai un passo avanti siamo a camminare in tante direzioni diverse ma il tema appunto della scuola della condivisione che è un ascolto che porta alla sintesi che non vuol dire che tutti hanno ragione o che ha ragione quello che urla più forte vuol dire che si deve trovare una ragione che è quella migliore per tutti non so se riesco a farmi capire in così poco tempo nel senso che è quella la sintesi secondo me non è l'immobilismo che dà ragione a tutti e però anche a nessuno alla fine quindi lo sforzo di fare una sintesi questo è il grande onere che ha il partito democratico la vicinanza è un altro termine che abbiamo utilizzato per articolare il programma la vicinanza vuol dire quello che ho detto finora la vicinanza ai problemi dei cittadini certo questo non lo voglio rimarcare lo penso di averlo già abbastanza spiegato ma vuol dire anche la vicinanza appunto ai problemi dei territori noi abbiamo avuto in questa provincia un evento catastrofico lo scorso anno di cui tra l'altro Beppe è stato anche direttamente coinvolto fortunatamente il comune di Maranello non lo è stato abbiamo avuto questo elemento del terremoto e credo che ad esempio in quel caso il partito democratico ha fatto di tutto per stare vicino a quel territorio la vicinanza ai territori penso adesso qua siamo al centro storico oggi quindi però penso ad esempio alla montagna un territorio che si sta scopolando che ha problemi idrogeologici cioè ci sono dei territori che non dobbiamo lasciare abbandonati anche se sono poco popolati oppure se hanno delle problematiche quindi la vicinanza ai territori in questo senso e dico per ultimo ma non per ultimo come importanza perché viene da un'esperienza diretta la vicinanza agli amministratori non bisogna abbandonare gli amministratori siamo in un periodo molto difficile noi diamo per scontate tante cose diamo per scontate che non so il nostro sistema dei servizi rimarrà quello diamo per scontato che quelle risposte che i comuni adesso riescono a dare saranno per sempre quelli quindi purtroppo si intravedono scenari che non sono così non sono così perché le risorse che sostanzialmente vengono sempre più a mancare lo sviluppo del nostro territorio che chiaramente ha cambiato di linea non è più l'Emilia Romagna parlo dell'Emilia Romagna non parlare soltanto della provincia di Modena che vivevamo dieci anni fa sta cambiando tanto e quindi dobbiamo anche da questo punto di vista immaginarci un nuovo modello un nuovo modello che comprende tante cose adesso qua non c'è il tempo per andare a svilupparle tutte in modo diretto penso al tema, al modello di sviluppo territoriale che chiaramente non è più quello anche se credo a Modena l'avessimo già capito prima con un piano territoriale che ha bloccato l'espansione e adesso dobbiamo ragionare della riconversione delle nostre città ma penso soprattutto al modello dei servizi i nostri servizi sono servizi di altissima qualità i servizi ai bambini, i servizi legati al mondo della scuola i servizi legati agli anziani sono le categorie più debole prioritariamente dobbiamo lavorare insieme con gli amministratori di tutta l'Emilia Romagna ma soprattutto della provincia di Modena per comunque trovare un modello che continui a garantire i servizi perché non siamo più in un momento in cui insomma è tutto facile siamo in un momento in cui è tutto molto più difficile una testimonianza credo che tutti quelli che qui hanno avuto a che fare con l'impegno dell'amministrare possano assolutamente avvallare cioè le cose sono assolutamente più complesse e quindi la vicinanza agli amministratori cioè non dobbiamo litigare tanto fare primario oppure dopo lavorare tanto prima per poi nominare i sindaci, gli assessori, gli amministratori e poi abbandonarli questo non possiamo più farlo dobbiamo fare in modo che il partito sia alle spalle di questi amministratori per decidere le politiche insieme ai cittadini e l'ascolto dei cittadini l'altra parola che abbiamo scelto vabbè questa ad esempio ne parlano tutti quindi potrebbe essere più scontata però è chiaro che dalle parole scontate bisogna andare all'interpretazione delle parole ai fatti l'altra parola è il cambiamento siamo tutti d'accordo che c'è bisogno di cambiamento nel partito democratico credo che tra l'altro a livello nazionale tutte le emozioni portino questo contenuto perché è evidente che quando ci si trova di fronte a un partito che soprattutto a livello nazionale non funziona è evidente che il cambiamento è la prima risposta che viene e da questo punto di vista quindi il cambiamento io me lo immagino in tanti modi ma uno dei primi è ridare responsabilità alla politica quindi alla formazione politica anche questo è un tema che non si può assolutamente dimenticare e poi il cambiamento va interpretato lo dico in un luogo dove il partito democratico è stato altamente in grado di interpretarlo anche nelle figure dentro agli organi di rappresentanza penso ad esempio a se noi prendiamo i segretari di circolo Modena ma anche l'Emilia Romagna cioè a un'età media sissima quindi ci siamo verso il rinnovamento va perseguito di più penso alla scelta fatta al contributo chiamiamolo così dato dal partito di Modena a livello nazionale rispetto ad esempio a due figure di spicco che sono Cecilia Guerra che sono Cecil Kenz che interpretano già il cambiamento perché chiaramente rappresentano delle innovazioni in un sistema dove appunto mette in campo professionalità mette in campo la coerenza mette in campo l'innovazione anche dell'essere in qualche modo donna che non è così scontata perché viene sempre cioè noi siamo ancora fermi alle liste 1-1 poi dopo c'è tanta strada da fare quindi anche quello è un altro elemento di necessità di cambiamento come si è messo non voglio sforare perché ah solo due minuti c'ho ancora sette panni no scherzo no vabbè chiedo scusa ma l'emozione è fuori un po' c'è no allora in questi minuti provo a fare una una sintesi poi dopo per tutte le altre cose c'è un programma che è stato scritto questo lo dico per me vale anche per Beppe in pochissimo tempo ci siamo stati un po' frutto di una di una concitazione per la presentazione delle candidature quindi poi io dico da mercoledì avrò sto rigenerando con nuovi contenuti il sito e quindi da lì potrete trovare tutti i materiali che volete e potrete fare anche domande e avrete delle risposte non in quelle non in tempo immediatissimo perché non è un modello Facebook ma un sito statico quindi però insomma le domande e le risposte arriveranno perché credo che poi quello sia la cosa migliore cioè darvi a voi la possibilità di fare domande specifiche per poi per poi insomma avere tempo e la modalità di rispondere quindi uso questi due minuti per dire due robe allora uno appunto la visione politica di questo partito vicino lo slogan che abbiamo usato per il programma che è questo appunto cioè il partito deve aver chiaro qual è il suo oggetto dell'interesse l'oggetto dell'interesse del partito sono le persone persone poi facciamo facciamo l'elenco i giovani perché adesso chiaramente le emergenze giovani ma poi ci sono i bambini cioè dopo ci mettiamo le criticità che magari possono anche cambiare nel tempo di quella che è appunto l'emergenza ma al centro dell'interesse dell'azione politica del partito democratico per come la vedo io ci devono essere le persone e l'azione del partito democratico appunto deve acquistare deve trovare le modalità per acquistare efficacia cioè non può essere un partito che non riesce a trovare la sintesi non riesce a crescere questa è l'altra grande sfida non riesce a crescere e questa è la sfida più grossa ed è a livello nazionale per riuscire poi a essere un vero partito di governo ma di governo libero non di governo un po' manettato come quello di adesso cioè quindi un partito che può essere un vero partito di governo perché è per quello che nasce il partito democratico rappresentando appunto l'area del centro sinistra vuole fare delle cose per le persone per questo è chiaro che serve governare abbiamo dimostrato il partito democratico dimostra nei luoghi dove governa penso l'Emilia Romagna penso la Toscana di essere in grado di farlo quando vuole quindi questa credo che sia la linea del partito democratico e due cose sulla un'ultima cosa sul tema della tanto dibattuta della forma partito cioè allora io penso che il partito debba essere radicato quindi non abbia cioè non può essere ho detto prima deve essere radicato sui territori deve trovare una modalità di ascolto deve avere dei luoghi importanti e quindi il partito deve essere un partito radicato gli iscritti sono sanciti per me dalla Costituzione cioè il partito è un'associazione con gente che si vuole iscrivere allora bisogna ascoltare tutti non vi è dubbio bisogna coinvolgere tutti perché le persone che si sono c'è la comunità sono tutte le persone e hanno tutti gli stessi diritti non solo gli ma nella logica nel percorso delle scelte del partito democratico io credo che un iscritto abbia una necessità di essere ascoltato di più perché un iscritto è uno che si è preso un impegno non peraltro si è preso un impegno e quindi lo dobbiamo ascoltare magari più più in un'altra modalità rispetto a un cittadino che ha pari diritti ma che nello stesso tempo non ha deciso di prendersi questo impegno verso la politica io la vedo un po' così qual è il rischio che non riusciamo però a farlo in un modo dico umano tra virgolette in un modo che è snello flessibile non è che poi dopo le consultazioni l'ascolto degli iscritti deve rendere il partito rigido il partito deve essere radicato ma non può essere rigido è strutturato ma deve essere flessibile quindi dobbiamo trovare un modo di fare funzionare il partito in questo modo chiudo così perché vedo sento degli sguardi allora no chiudo con questa ultima cosa che era quella poi insomma che credo debba essere messa così sulla valutazione allora io una delle domande che arrivano adesso da tutti i giornalisti è perché ti sei candidato a fare il segretario provinciale del partito democratico che fanno a me e fanno a me allora io penso questo in un momento come quello attuale dove l'Italia ha le problematiche che non vi devo io raccontare cioè nel senso che non c'è il tempo per farlo dove la crisi economica il il degrado della cultura ce la voglio mettere perché quando uno è italiano e sente quello che succede a Pompei non sta bene cioè sono tante le cose quando ci sono tanti gli episodi che ti fanno sentire male mentre invece credo che che non possa essere così l'Italia è una è una è uno stato ricchissimo con delle grandi qualità con una grande storia una grande tarizione e l'Italia oggi come oggi io credo abbia bisogno del partito democratico cioè è la mia visione l'unico partito che oggi ad esempio non è vittima di personalismi spinti non è il partito di qualcuno è un partito che ancora appunto si compone con degli iscritti dal basso questo deve essere il partito democratico l'Italia noi giriamo adesso vediamo gente che non sta molto bene vediamo gente che dice l'Italia non ce la farà io credo che ci abbia ci sia una possibilità l'Italia ha uno strumento per farcela questo strumento è a mio avviso il partito democratico ma un partito democratico che deve crescere e camminare tanto per diventare quello strumento che credo ci faccia tornare a essere orgogliosi di essere italiani allora partivo dal tema della formazione della formazione soprattutto che è una una grande esigenza dei dei giovani devo dire che adesso Marco fa questa domanda perché poi il lavoro che si sta svolgendo a Sassuolo credo che sia importante con i giovani adesso abbiamo anche rinviato un incontro che dovevamo fare breve la formazione è fondamentale ma lo diceva anche anche Maurizio cioè noi non possiamo pensare che chiediamo competenze a tutti chiediamo competenze ovunque e abbiamo cancellato dalle nostre linee di azione la formazione politica la formazione politica e la formazione degli amministratori sono due cose assolutamente differenti quindi quello è una delle priorità io l'ho citata io chiedo scusa perché la prima relazione chiaramente doveva essere tutta concentrata ma la parola formazione ci ho tenuto a dirlo proprio perché è lì la svolta dell'innovazione cioè si collega con l'ascolto l'ascolto è la condivisione e la qualità delle cose e delle scelte che facciamo cioè noi non possiamo pensare che appunto la condivisione che nasce dall'ascolto è frutto soltanto di umori deve essere frutto di competenze quindi anche l'ascolto dei nostri amministratori locali quando si parla ma soprattutto delle varie componenti della società civile deve essere legata a un ascolto che porta a condividere perché le persone con cui ti confronti sono formate per parlare di quel tema quindi io parlo dell'esperienza che ho avuto parlo dei consigli comunali cioè appena si entra nei consigli comunali già dagli anni 90 voglio dire ci si trova in una situazione abbastanza impreparata per quello che è tutta la conoscenza noi abbiamo innovato nelle persone perché il partito democratico ha messo in campo giovani tanti se guardiamo i nostri consigli comunali ci sono dei giovani amministratori ovunque ma li abbiamo mandati un po' lì da soli allora ci sono tante strade si può fare sia adesso chiaramente può essere sia l'amministrazione e noi l'abbiamo fatto facendo delle formazioni direttamente su quelli che sono già consiglieri però si può fare anche prima cioè si possono mandare delle persone che hanno già avuto l'opportunità di conoscere le varie tematiche che deve affrontare un consigliere comunale che vanno dai bilanci all'urbanistica cioè sono tematiche importantissime quindi il tema della formazione è giusto ricordarlo io l'avevo citato è assolutamente una una delle chiavi del cambiamento perché questo ce lo siamo un po' dimenticati abbiamo pensato che innovare volesse dire mettere il nuovo ma senza che il nuovo fosse formato e preparato questo è un errore che abbiamo assolutamente fatto e sulla questione delle alleanze adesso lì nel tempo stanno arrivando mille domande parlo con con Finelli che chiedeva il tema delle alleanze per il futuro cioè non è tempestiva la domanda perché effettivamente siamo già in corsa su questa cosa qua e su tutto quello che è quello che dovrà essere l'impegno del segretario provinciale dal giorno dopo quindi cominciare a lavorare a dare regole a capire e a fare incontri e a governare il tema di tutte le le amministrative che tra l'altro nella nostra provincia sono tantissime su quali alleanze è evidente che le alleanze per come la vedo io si devono appoggiare sul programma cioè qual è la nostra idea di quel territorio dove vogliamo arrivare e con chi è possibile arrivarci siamo in un momento in cui il disorientamento può essere totale perché a di là di tutto come lo citavo prima nella relazione iniziale cioè noi stiamo governando col PDL quindi cioè lo scenario è quello che deve essere è quello che adesso è necessario che sia perché era una situazione di emergenza e quindi bisogna fare in modo di trovare il meglio però non siamo contenti di tutto quello che esce dal nostro governare insieme a quindi noi dovremmo fare in modo che la costruzione delle alleanze e che credo che sicuramente verranno discusse su dei tavoli provinciali ma poi anche i territori dovranno fare la loro parte noi siamo stati per anni a seconda anche dei luoghi un laboratorio cioè non abbiamo delle omogenità di alleanze sempre comunque nell'ambito del centro-sinistra quello che è stato fatto qua questo lo voglio chiarire perché non è quello che succede a livello nazionale però c'è delle alleanze nell'ambito del centro-sinistra che dovranno secondo me comporsi sui programmi sugli obiettivi questo è quello che come la vedo io e per quanto riguarda il tema della visione di partito rispetto al livello nazionale adesso la visione della storia del partito mi sembra di averla provata a spiegare mi sembra che effettivamente da come l'ha interpretata Maurizio sia stata compresa è evidente che siamo di fronte a un congresso che mette in campo le quattro mozioni e poi dopo ci sarà la prima selezione io anche questo avevo un po' provato a metterlo in campo cioè non credo che cioè il fatto che si sia voluto ribaltare il processo del congresso cioè noi le altre volte che abbiamo fatto i congressi del partito democratico siamo partiti dall'elezione del segretario nazionale con delle primarie e poi alla costruzione dei gruppi dirigenti locali questo forse ha portato a sclerotizzare un po' questa logica nel senso e a mettere sul territorio una modalità che forse è stata poi anche a volte ricomposta ma a volte no quindi il tema adesso l'approccio è ribaltato si è deciso di fare primi congressi locali per poi andare a quello nazionale io lo trovo positivo perché comunque per tutto quello che ha detto il compito delle classi dirigenti fatto salve appunto che giusto e corretto questo confronto saranno le emozioni eccetera eccetera il compito della classe dirigente è comunque quello di fare sintesi e quindi io non credo appunto che sia necessario in qualche modo poi come diceva anche Giuseppe prima noi sicuramente voteremo un candidato avremo le nostre preferenze credo che da quello che diciamo si possa anche comprendere eventualmente però non credo che sia il nodo dove si colloca il segretario provinciale perché comunque il processo che dobbiamo sviluppare è il processo della sintesi per fare questo è chiaramente il mio punto di vista e sulle priorità le priorità è chiaro che sì ci vorrebbe del tempo per cominciare a sviscerare e analizzare noi abbiamo il cantiere del programma il cantiere del programma che è stato elaborato da tutti credo che sia sarà lo strumento su cui puoi continuare a lavorare perché anche quello adesso è chiuso in questi giorni però insomma su quello è un'elaborazione in itinere allora le priorità ci sono e sono proprio figlie della della situazione in cui siamo no che è la priorità economica che fa sì che ad esempio diventino una priorità il sistema dei servizi servizi sociali servizi scolastici come dicevo prima cioè non diamo per scontato che tutto continuerà come è stato finora quindi la priorità è cercare delle nuove modalità per mantenere questi livelli dei servizi come e quindi chiaramente su quelli socio assistenziali siamo chiaramente su quelli in primo campo ma poi anche tante altre cose come del resto la priorità del rapporto cioè il tema del rapporto col territorio è una priorità appunto cambiare un po' la modalità ma l'ho detto anche nella nella presentazione probabilmente in modo veloce superficiale cioè sicuramente abbiamo il problema dell'uso del territorio abbiamo il problema delle fragilità del territorio che sono tante dalla montagna fino alla pianura cioè abbiamo tante emergenze che devono essere la priorità abbiamo un altro elemento che non è ancora saltato fuori questa mattina che io credo sia molto importante se parliamo di territorio noi abbiamo un problema enorme di mobilità cioè quindi tutti questi temi li dobbiamo mettere in fila e dobbiamo cominciare chiaramente a organizzarli a trovare delle soluzioni come si diceva appunto cioè mettendo in campo le maggiori competenze per poter trovare la soluzione migliore che io ci tengo a dirlo la soluzione migliore per me non è una soluzione ideologica cioè è la soluzione fattibile in quel momento che può essere perseguita e che può dare gambe a una risposta e quindi su quello adesso credo che non voglio rubare tutto il tempo beh quindi sul tema delle priorità dei tanti temi che ci sono da affrontare è evidente che si apriranno a seguito appunto della della chiusura della prima fase del cantiere del programma cioè ulteriori discussioni e il tema del del cambiamento che sollevava anche Maurizio adesso lui ha citato e mi fa piacere un po' anche questa come siamo arrivati insomma questo tema del confronto che ci ha visto sia io che Beppe insomma negli ultimi giorni provare insomma anche a non mettere in campo il confronto io non voglio dire la sfida cioè lo voglio chiamare confronto il tema delle primarie che si sta mettendo in campo adesso e però dopo che insomma non è stato facile fare la scelta di rimanere nel confronto ma nello stesso tempo da subito ho capito che la scelta di rimanere nel confronto era una scelta di arricchimento vero è le modalità che dobbiamo usare per il confronto credo che insomma siano quelle che sono partite credo che sia necessario rimanere in quelle modalità ma credo che sia un arricchimento per il partito democratico e allora perché no insomma non è necessario sempre trovare le scelte nelle nei livelli della dirigenza si può andare a fare le scelte insieme agli istituti in questo caso e credo che sia un arricchimento sul tema di come dare più gambe e circoli provare a mettere in campo l'ascolto e questo è chiaramente un elemento che parte appunto dall'idea che il partito deve essere più radicato da questo punto di vista io credo che siamo anche nella necessità di dover un po' anche innovare la rete del partito per come è costruita noi stiamo andando avanti dal punto di vista delle amministrazioni locali appunto come diceva prima anche Beppe sulla riorganizzazione territoriale per unioni per aree aggregate eccetera quel livello lì nel nostro partito non è un livello cioè un c'è un coordinatore non è un livello riconosciuto quindi lì secondo me deve essere fatta una riflessione perché comunque i circoli devono trovare anche un momento di sintesi forte istituzionale su quel territorio non è una rinuncia diciamo di decisionalità o di capacità del gruppo dirigente provinciale però se vogliamo radicarci sul territorio dobbiamo andare vicino ai territori e quindi l'aspetto anche dei livelli intermedi quelli delle unioni che sono le macro aree che non si possono certo chiamare area vasta perché non hanno nulla a che fare con il livello di area vasta questi sono livelli importanti per provare anche lì a discutere a coinvolgere in una nuova idea appunto di di qual è quella quell'immagine del territorio insomma quindi da questo punto di vista poi gli strumenti vanno trovati e messi in campo nello specifico noi parlo dell'esperienza che abbiamo che hanno i giovani appunto su Sassuolo è quella comunque di con i giovani fare formazione chiamarli incontrarli cioè dopo ogni circolo dovrà avere le sue modalità e troverà un po' però penso che a questo punto organizzarlo a livello distrettuale chiamiamolo così a livello dell'unione potrebbe rafforzare altro tema è la città chiaramente la città è già aggregata per parti e è chiaro che la necessità di dare dei luoghi io non sono una fanatica lo dico dei luoghi soltanto virtuali nel senso che i luoghi virtuali ci sono lì si sviluppano tantissimi dibattiti tantissimi confronti delle volte anche ci fanno del male perché diventano anche molto maleducati e parlo delle precedenti primarie dove abbiamo dato un pessimo esempio di noi sui luoghi virtuali della comunicazione perché forse lì si perde un po' il senso del pudore perché ho letto cose che da questo punto di vista quindi credo che bisogna riformare e dar vita a dei luoghi veri non solo ai luoghi virtuali chiudo con l'ultima considerazione che faceva Paolo insomma è chiaro che lì c'è da sviluppare tutti i temi sono d'accordo c'è l'innovazione la legavo io subito con la formazione la legavo con un nuovo modo di mettere in campo una politica competente con la necessità però appunto come ribadisco di mettere in campo la sintesi poi si possono avviare tante quando io dico condivisione che non è l'ascolto è proprio quello cioè è un meccanismo diverso dopo ci sono tutti si può avviare tutte le varie discussioni sui vari temi dalle multoutiliti eccetera eccetera io sulla multoutiliti dico soltanto una cosa cioè allora non dobbiamo confondere anche qui l'obiettivo con lo strumento cioè le multoutiliti sono uno strumento sono previste dagli statuti dei comuni per gestire ce ne sono altri ce ne sono stati altri ci sono però delle norme europee che magari non ci consentono di mettere in campo altre ancora quindi siamo in un sistema allora è evidente che se adesso faccio il caso specifico di ERA ERA è un 51% a proprietà pubblica quella parte pubblica deve avere un ruolo basta un ruolo non